Bella rete di passaggi. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla in avanti verso il compagno. Prova il filtrante. Grazie. 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 Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla è vero, è vero e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno prova a servire il compagno sulla fascia ma non ci può arrivare pallone morbido verso la fascia pallone lungo ma la precisione lascia davvero a desiderare buono il cambio di gioco prova a giocarla dentro dalla distanza riceve il passaggio la mette sulla sinistra palla in out ci sarà rimessa laterale lungo passaggio in avanti cerca di mettere un pallone interessante in area la prima mezz'ora se n'è quasi andata si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più se una delle due la vuole vincere deve tentare di attaccare in una maniera più efficace la mette sulla sinistra cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria vuole la profondità prova la giocata nello spazio credo però che ci sia fuori gioco così è così il fuori gioco c'è cerca di lanciare il compagno e non ci può arrivare ed ecco un'altra rimessa laterale palla in out ci sarà rimessa laterale chiede scusa ai compagni questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi cerca spazio vi siete appena sintonizzati? beh state tranquilli non vi siete perso nessun gol ancora parità 0 a 0 bella serie di passaggi bella palla ad allargare il gioco sono finiti i primi 45 minuti squadre negli spogliatoi primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più